Sabato 9 febbraio, 13esima giornata nazionale di raccolta del farmaco. Anche quest'anno, recandosi nelle farmacie che spongono la locandina del Banco Farmaceutico, si può acquistare e donare un farmaco da automedicazione a che vive ai limiti della sussistenza. Sono 8.173.000 i poveri nel nostro paese, secondo i dati Istat 2011. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, in collaborazione con Federpharma, si svolgono oltre 3.200 farmacie distribuite in 85 province e in più di 1.200 comuni. A beneficiarne saranno le oltre 500.000 persone che quotidianamente vengono assistite dagli enti caritatevoli convenzionati con il Banco Farmaceutico in tutta Italia. Medicinali rappresentano in molti casi l'unica via di salvezza e diventano ancora più essenziali quando non ci si può più permettere le cure necessarie. Ecco allora che il semplice dono di un farmaco è un atto d'amore e di civiltà verso quella fascia di popolazione meno fortunata. Vediamo com'è andata a Taranto. Noi oggi abbiamo avuto l'accoglienza calorosa e operosa della farmacia Castellaneta. Grazie a questo aiuto e all'aiuto di tutte queste persone riusciremo a soddisfare le richieste dei farmaci che essendo molto costosi la povera gente non riesce ad acquistare. Quindi noi che ci occupiamo soprattutto di bambini abbiamo bisogno di tachipirine, tutti i medicinali per bambini. Grazie a questa raccolta riusciremo ad aiutare i bambini che noi assistiamo.